ciao belli vuole fare i miei più grandi apprezzamenti e più grandi congratulazioni a paul e debbi perché perché il format del clown killer che già hanno fatto molti youtuber famosi un solo video lo stanno facendo benissimo con una bella serie avvincente anche se tutto fake tutto quanto romanziato il pit è uno dei pochi gruppi mi pare normale che pure essendo romanzato a un interesse infine suscite interesse perché poi da bravo recista stop i video sul più bello sul più bello complimenti apple che riesce a suscitare interesse nel vedere video dopo video anche perché gli video sono per un pubblico giovane ciao belli complimenti polla